Il contestato autovelox ai colli di Pescara in via di sotto con il limite a 30 all'ora i giorni contati. Il comune infatti lo toglie. Sabato scade l'affitto dell'apparecchio e non sarà rinnovato. Sono oltre un migliaio i ricorsi per far annullare le multe. L'assessore Luigi Albore Mascia. Come preannunciato è stata una misura sperimentale autorizzata da una legge dello Stato che ha comunque consentito poi anche di realizzare delle misure di messa in sicurezza di quella strada che ricordiamo è la strada più pericolosa di Pescara con 31 incidenti negli ultimi 5 anni e intorno alla metà di luglio scadrà la sperimentazione e quindi quell'impianto verrà dismesso da via di sotto. Tantissimi sono stati ricorsi. I ricorsi sono stati tanti in proporzione anche alle tante contravvenzioni che sono state elevate. Quindi è fisiologico come tutte le volte in cui ci sono numerose contravvenzioni. E quindi comunque è giusto che chiunque possa tutelarsi possa esprimere le proprie ragioni e poi saranno le dovute sedi a decidere quali saranno gli esiti di questi ricorsi. Per concludere qualcuno pensa che l'autovelox sarà spostato altrove? Io ho sempre detto che l'installazione di una misura di questo genere, ripeto consentita da una norma recentissima del governo giallorosso all'epoca Conte e PD che ha comunque modificato il codice della strada, è una misura di carattere tecnico. Non è una scelta politica, è una misura tecnica che è stata adottata però in maniera ragionevole proprio su un tratto di strada che meritava comunque un'attenzione particolare perché la vita delle persone è fondamentale. Dovremo imparare secondo me nell'arco dei prossimi anni a mantenere una misura adeguata sulle nostre strade che sarà tra 30 e 40 perché questa è la direzione che prende il codice della strada. Sono state tra l'altro realizzate infrastrutture in via di sotto che hanno rafforzato ulteriormente la sicurezza. Oggi finisce la sperimentazione ma in quel tratto di strada dove c'era l'autovelox fisicamente oggi è impossibile o quasi impossibile solo per gli incoscienti superare la misura dei 30 all'ora.